bello peeps rieccoci eravamo rimasti che avevamo quasi finito i combattimenti vabbè aspetta velocità massima qua che state affando a te lenti tra l'altro ci sono i gameplay di Pathfinder Kingmaker in arrivo pure vediamo un po' Cuore del Titano eccetera si perchè mi sa che qua avevamo praticamente fatto praticamente quasi no branco di cinghiali se il cinghiale comune è già di persona belva pericolosa i cinghiali giganti di Kuzuhari hanno ricevuto la tempra alla furia di Taomuai nel corso dei secoli un numero imprecisato di cacciatori su quest'isola è morta mentre cercava carne di maiale da mangiare per cena accetta poi vediamo i tre combattimenti quelli di ogni singolo bossettoni del Seeker dello Slayer del Survivalist lì del Superstite del Survivor anche da morto bene bene quattro cinghialotti sembra facile sembra mi fido poco ecco alla cazzo i nostri allora cominciamo con resistenza lei facesse instant e vabbè questi ciapano fa fermi un secondo ok fategli i 5 buffs ok bene benissimissima allora cominciamo proprio subito subito con le fanta resistenze poi stanniamo tutto il mondo creiamo un po' di di situazione brutta pure per loro vabbè visto che sono tutti mele io vi faccio questo qua che fa danni bene potrei anche cominciare a fare un po' di danni quanta vita c'hanno sti qua una cifra ma c'è altra roba in giro no? solo quattro cinghiali possibili vabbè potrei pure fare questo io tipo cercare di ciarmarne un paio vediamo un attimo se ci riesco si è vabbè i simoli distruggo evoca questi ho dimenticato di evocare la roba con ala vabbè ma easy mi sa che spawn un'altra roba qua sennò è troppo facile sto fight c'è qualcosa che non va scrofaci ah ma diventano sempre più grussi tra l'altro lei deve cominciare a buttare una curetta qua ma che è ora? no me l'hanno buttata per terra dannazione allora fai questo tu oh shit questo è un grosso cinghiale non buono ah mi menano il coso il doodoo ah fai questo tu bene spariscio tra l'altro non lasciano cadaveri quindi non posso fare una mazza a livello di vabbè a livello di di cure con la curetta questa qual'era? questa qui che è tot ripristinata per ogni per ogni corpo di caduti uccidete lei finisce tra 7 secondi questa va curata in qualche modo faccio questo me l'hanno ruptato pure lì cazzo bevi di una pozza però boh lei adesso c'ha lo shell ed è in toccaboli non è che mi è rimasto molto mi è rimasto questo qua col quale magari aia vabbè me la stanno chain buttando per terra dai ci armassi due non è che l'ho ci armati molto bene è durato penso mezzo secondo allora fai questo lei è finita la cosa facciamo questa ma che ci siamo quasi ok dovrebbe ribaffare tutti quanti perché sta non è che sta messa bene bene la situazione eh vabbè fatela finita di buttarmi per terra cavolo cura al pettino lei bisogna un attimo risolvere la situazione perché sta prendendo troppi schiav ma si io la sposto ok bene l'hanno ignorata perfetto basta che li tanka chi dai il resto a posto proviamo ah però vedi che i cadaveri di quelli grossi vanno bene ok allora a posto da paura erano quelli piccoli che non lasciavano cadaveri questi li lasciano distruggi distruggi vai che questo è andato a posto abbiamo vinto pure è stato uno scontro abbastanza easy e la fate bene as a bump on a pickle ok yeah ah bello ah ok c'era stato un attimo di bug adesso adesso io salverei e proverei il terzo combattimento di tutti i vari i vari boss l'applauso continuo della folla si affiavolisce lentamente fino a diventare un mormorio distante man mano che il rumore si attenua l'apparizione che hai visto nella valle si materializza davanti a te ah i rook si è un po' si e quante altre vittorie saranno necessarie per saziare la tua curiosità ah giustamente ho sentito abbastanza ce ne frega niente maledetto telefono che vibra la silhouette della magua si fa meno nitida i tratti si trasformano in un bagliore uniforme e si dissipano nel nulla mentre il ruggito della folla ti riempie di nuovo le orecchie andiamo a riposare non è che non è andato per terra nessuno in realtà potrei pure non riposare però stiga madonna sto livello il 20 è improponibile da fare ah fammi vedere un po' costituzione e durata degli effetti ostili era la migliore esc e salviamo quindi ci mancano tre combattimenti più uno due tre quattro cinque che vanno trovati questi qua poi quindi c'è ancora un bel po' da fare ah watch ancora cosa devo uccidere per trovare l'artefatto alla faccia dello sterminatore ok gruppo di vagabondi vagabondi balodi balodi ce ne sono una marea eh ti ho fatto lo sterminatore della prateria wow cosa viene la distruzione mazza quanta ok torna al lago esplora la difesa è una serie di venti nell'arena del crogiolo ah ma quindi c'è altra roba da fare qui e torna al lago del esplora tiebe o waipu no ok quindi abbiamo la sfida allo sterminatore la prova di resistenza vivi gli ultimi momenti di uno degli esperimenti malefici più riusciti di un animante in questa battaglia gli sfidanti schiereranno un'orda superchiante di costrutti e la sola interruzione dell'attività dell'animante ben nascosta può dare loro una possibilità salviamo e proviamo però non mi ha dato quel messaggio tipo adesso se uccidi se fai questa prova eccetera mi sa che dopo questa c'era quella definitiva bene dove si troverà adesso l'animante no ce la fate sta fermi carburante spirale del disgregatore e quale cazzo è la cosa sarà questo no non mi pare proprio non lo so vabbè cominciamo a fare i buff a tutti qua io che vedevo di che situazione buttali un po' tutti per terra please benissimo ma visto che sono tutti in mele questi ragazzi facciamo anche questo buff quello del danno poi facciamo questo per resistere di plus ma vanno giù come cupazzi sti cosi ma ma whatsapp è un problema allora quello l'ho fatto quello l'ho fatto mettiamo una curetta blanda in zona anche lui per un momento questi vanno giù abbastanza easy non bisogna vedere i prossimi che spawnano che mo si alzano quelli eccoli là non si alzano quelli grussi facciamo evochiamo la roba sa quanto dura il coso questo qua il cervo può essere se provo voglio vedere il cervo come perché mi sa non l'ho mai tirato forse l'ho tirato un paio di volte ma non ho mai visto quanto dura perché l'ho sempre detonato ah chiaramente c'è la detonazione ok il problema è che adesso stanno distanti sti salami e mi viene complicato curarli di sub è uguale sti che insomma fa niente sono riuscito a buttarli per terra male male eh prende bei danni 40 botta di cose guarda lei che pizze che sta prendendo oh jesus allora facciamo questo e poi questo anche dare una curatina di generale a tutti oh mi stira lei eh però ah che flopperoni che flopperoni tra l'altro resta lei meh che sola scappatissimo 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 di qua ok bene abbiamo fatto pestare i nostri tank però adesso gli dobbiamo dare una mano se noi gli diamo una mano questi fanno una finaccia brutta assai ci vogliono uh bello 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 un sacco di cure qua ottimo non pensavo ce ne fossero così tante allora lei dovrebbe tirare quantomeno una cura di gruppo questa qua bella bottarella di cura tutti vittali in terra se puoi fagli dei danni bueno bueno che altro abbiamo abbiamo questo che qualche danno lo fa specialmente se sono metallici eh infatti una quarantina gli è arrivata non male dai dai che vanno giù pure questi easy peasy vai con l'aone vanno ottimo sono rimasti tre fantastico a tua epoca questi che non si sa mai mi sa che poi c'è un'altra ondata abbastanza easy pure sto fight ecco lì ne vedo uno qua vabbè vanno giù come i pupazzi ma no ma che cazzo hanno fatto questi imbecilli vabbè sono impazziti io e io vabbè vabbè è uguale facciamo finta che è uguale vabbè assondata era più easy di quella di prima ma che cazzo ne arrivano altri cosa ok quanti cazzo sono ah ma mi sa che allora tu muoviti qua spacca questo mi sa che dovevo spaccare sti sti spirali del disgregatore qua così a occhi e croce perché sennò continuano a venire all'infinito ci ho messo dieci minuti l'avrei fatto subito se no certo ho scelto uno dei pg più lenti eh dovrei farcela prima che uccidano si easy easy ok vediamo di far ah lei è morta mannaggia lo schifo è successa una situazionaccia però che è morta così non va bene mentre stavo a cazzare dall'altra parte vabbè vediamo se sono finiti sti cosi magari questi sono gli ultimi magari sa quanto reggio c'ha il viso del muto guardiano immune infezione a veleno non pia danno dai eh arriva a sette 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 comunque regà assolutamente una delle più grosse svolte del gioco il cantavano una canzone sul massacro tanta roba le vocazioni sono potentissimissime nello specifico questa fa i buchi sono finiti? eh si ok quindi era tutto la bisognava spaccare ok e io che credevo sconfiggi la banda dei lords e diventa il prescelto della faccia del superstite ok vabbè quindi posso farle devo fare poi il combattimento finale contro la banda di ogni cosa per cui i combattimenti li posso terminare c'è un sacco di roba su sto dlc ma questo ci vorranno almeno almeno un'altra 6-8 ore per finirlo mi sa eccoli là gli orsetto boys l'enorme git e il suo orso ti osservano gli odori del loro muschio si fondono in una singola puzza indistinta al di là l'arena mormora con impazienza e poi stupitissimo ridacchia con più austerità che calore non vedo l'ora di mettere alla prova il tuo temperamento va bene si acciglia leggermente prima di fare un cenno alla banda dell'orso nell'arena ok 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 beh io le voglio battere tutte ste varie bande quindi assolutamente prima si riposa di qua me l'hanno crepate loro due me l'hanno crepate ben bene f5 me l'ho ho sentito ma come ancora ma quanti sosti artefatti 8000 staci tu cercassi un altro sopravvissuto ok impossessati della gemma grezza sono una marea cioè quando poi usciamo da qui ne dobbiamo fare 8000 di ste cose va benissimo quindi adesso possiamo fare due combattimenti poi dopo usciamo a fare il vediamo la sfida del superstite no questo è ok ma ci abbiamo le tre sfide quindi bisogna andare a cercare le altre cose benissimo andiamo allora partiamo dalla prima gemma grezza superstite che si aggrappa alla vita in un arido deserto ok sì quale deserto boh potrebbe essere ovunque praticamente vabbè schippa allora partiamo da sotto all'occhio del kraken apporto maggio ok questo è sciallo ah è vero dovevo uscire dall'altro lato l'imortaggi mia era da questa